Prince William era sotto pressione con Kate Middleton, ha affermato l'esperto di relazioni Neil Wilkie in un'intervista con Express.co.uk, dicendo che la gente chiedeva, è quella giusta per lui? Il duca e la duchessa di Cambridge, entrambi 39 anni, erano a Londra la scorsa notte per la Royal Variety Performance. La coppia sembrava affascinante quando sono arrivati alla Royal Albert Hall di Londra per la loro quarta apparizione allo spettacolo di raccolta fondi. L'evento è in aiuto della Royal Variety Charity, di cui la nonna di William, la regina, è patrona. I fondi raccolti aiutano gli animatori di tutto il Regno Unito a sostenere la loro vecchiaia o quando sono malati.Il Royal Variety di quest'anno è particolarmente speciale in quanto segna il centenario del patrocinio della famiglia reale dell'ente di beneficenza. Il nonno della regina, re Giorgio V, iniziò i cento anni del monarca regnante come patrono quando assunse il ruolo nel 1921. La partecipazione di William e Kate allo spettacolo di ieri è stata la loro quarta uscita alla serata annuale di intrattenimento. La partecipazione di Kate a tali impegni reali è diventata un luogo comune da quando ha sposato William, il secondo in linea di successione al trono, nel 2011. Tuttavia, l'esperto di relazioni Neil Wilkie ha affermato che nei primi giorni della relazione dei Cambridge, c'era una pressione infernale sulla coppia, in mezzo a un intenso controllo dei media. Ha detto a Express.co.uk, la difficoltà è che qualsiasi ragazza che aveva era sotto i riflettori dei media. C'erano delle domande, lei è quella giusta per lui? È lei quella giusta per essere la futura regina? Questa è una pressione infernale su qualsiasi ragazza, ma c'è anche molta pressione su William. Sto facendo la scelta giusta? Sto facendo una scelta che sarà giusta per me ma anche giusta per i milioni di persone che stanno guardando cosa sta succedendo nella mia vita? William e Kate si sono conosciuti durante il loro primo anno all'Università di St. Andrews in Scozia e hanno finito per vivere nello stesso alloggio.